cari amici youtube gianti bentornati ancora una volta qui sul mio canale che vi invito vivamente di fare appunto una visita per visualizzare quanti video interessanti potete trovare per guadagnare piccole cifre ovviamente non stiamo parlando di diventare ricchi però comunque un po' qui un po' lì e si raccatano un po' di soldini quest'oggi appunto abbiamo una buona notizia ovvero stato miner ha pagato un'altra volta e andiamo appunto sul sito di satominer come vedete io ho un account enterprise da 85.000 satoshi al giorno ok ho effettuato due depositi uno da 500.000 satoshi uno da un milione di satoshi quindi sono a 1.500.000 e i ritiri sono arrivati a quota 600.000 satoshi come vedete l'ultimo ritiro l'ho fatto questa notte 23.12 all'1.40 di 200.200 satoshi come vi ricordavo già nei precedenti video nel momento in cui entrate in questo sito con il vostro indirizzo bitcoin vi verranno dati dei bonus ovvero io vi faccio vedere quello che ho guadagnato con i bonus fino adesso ok 165.984 satoshi allora il bonus praticamente come funziona abbiamo a disposizione un certo numero di colpi quando fate l'iscrizione ne avete a disposizione 3 dovete semplicemente schiacciare play e dal numero che vi esce fuori qui se conterrà almeno un 9 potete vincere o meglio con 0 9 99 satoshi con un 9 999 satoshi con 2 9 9999 satoshi e così via quindi mi raccomando ricordatevi di sfruttare il bonus andiamo un attimino a vedere gli account allora come vedete io i primi 3 li ho già acquistati tutti o meglio il primo il basic è gratuito da 8.000 satoshi al giorno o no non mi ricordo se questo è gratuito o meno si penso di sì vabbè 8.000 satoshi al giorno il secondo da 25.000 satoshi al giorno il terzo che è quello che ho fatto io da qualche giorno ci rende 85.000 satoshi al giorno e un bonus di 10 spins ma andiamo alla fase più importante ovvero il ritiro quindi andiamo su withdrawals vi ricordo appunto ritiro di questa notte 23.12 all'1.40 da 200.201 satoshi quindi io mi sono appoggiato su spectro coin come wallet quindi andiamo su spectro coin faccio un refresh così almeno non ci sono inganni ok come vedete ho 603.481 satoshi per un valore di 20 quasi 21 euro e l'ultimo ritiro appunto è da 200.201 satoshi che è appunto l'importo che ho ritirato su satominer quindi satominer paga per il momento perlomeno quindi se siete interessati e avete qualche domanda non esitate a scrivermi nei commenti che sarò molto felice di rispondervi vi ricordo ulteriormente l'iscrizione al canale è molto importante perché se no altrimenti vi verrà la dissenteria quindi se non volete passare la giornata al bagno dovete iscrivervi al canale attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati e ci vediamo al prossimo video con questo è tutto vi saluto mi mando un abbraccio e buone feste se non dovessimo vederci prima ciao a tutti ciao a tutti